Il calcio di Serie D La domenica calcistica appena trascorsa non sarà sicuramente da ricordare. Sconfitte, Campobasso e Agnonese, pareggio in extremis per il vasto Girardi nella gara interna contro la Jesina. Gli errori, anche abbastanza grossolani nei reparti difensivi, sicuramente una costante delle tre gare. Possiamo tranquillamente affermare che nei nove gol subiti complessivamente almeno la metà sono stati regalati o quasi agli avversari. Al Selvapiana stecca all'esordio casalingo il Campobasso. Dopo la bella rete realizzata dal Volpone e Sansovini, i lupi non sono riusciti a rientrare in gara. Primo tempo a ritmi troppo lenti, una squadra in casa con velleità di alta classifica deve imporre un ritmo non solo agonistico, ma soprattutto caratteriale, elementi che non si sono visti domenica. Nella ripresa poi Rosso-Blu hanno cercato in tutti i modi di rientrare, con confusione, concedendo altre due reti al notaresco che ha ringraziato gentilmente e portato a casa i tre punti. Peccato perché nonostante una gara non buona, con maggiore attenzione si poteva cercare un pareggio del tutto vanificato nel momento della rete realizzata dall'ex Isernia Romano. Attaccanti di casa lontani dalla forma migliore e lontani dall'essere pericolosi, insomma una domenica no a tutti gli effetti. Resettare tutto e ripartire è l'unica soluzione, siamo appena la seconda giornata e siamo convinti che la squadra allestita è di livello e che con qualche accortezza in più ed una crescita della condizione atletica si può far davvero bene. Deve migliorare l'aspetto caratteriale, in casa si può e si deve fare assolutamente di più. Pubblico locale abbastanza deluso nel finale, ci sentiamo di dire che bisogna attendere per giudizi affrettati e stare il più possibile vicino alla squadra e dalla società in particolare. I vertici rosso-blu meritano stima incondizionata per tutto quello che hanno fatto sino ad ora. Un lavoro che a campo basso non si vedeva da oltre vent'anni, con la prospettiva assolutamente intatta di giocare un campionato da protagonisti. Meglio una batosta adesso per capire dove crescere e migliorare. Domenica a Tolentino, in provincia di Macerata, è attesa una prova di riscatto. Al Civitelle la prima interna per il giallo-blu di Farina si chiude sul 2-2. La doppietta del difensore centrale Mikhailovsky rimette in entrambe le circostanze il parziale in parità. Il difensore all'esordio in campionato ha fatto vedere tutto il suo repertorio. Oltre la difesa, due gol davvero belli. Buona la gamba degli uomini di Farina che dimostrano ancora una volta di poter giocarsi le proprie carte in questo campionato. Nota negativa ai gol subiti. Le reti della Iesina nascono da due errori grossolani. Nella prima circostanza, sugli sviluppi di un corner, dimenticato completamente De Lucia che realizza da due passi e poi l'infortunio del portiere Caparro che di fatto ha servito a Villanova il pallone del 2-0. Insomma, insieme alle tre reti subite dal notaresco, la riflessione è che bisogna crescere assolutamente nelle situazioni difensive anche perché domenica la Iesina raramente si è affacciata dalle parti dell'estremo Alto Molisano. Al contrario, in attacco si segna, si creano occasioni. Già quattro i marcatori per la squadra con la rete annullata a Ruggeri ed il palo dello stesso difensore su punizione oltre diverse occasioni fallite. Ad Avezzano il prossimo impegno con i Marsicani fermi ancora a zero. A Recanati la seconda sconfitta per l'Olimpia agnionese. 4-2 in favore dei Canarini. Buona la prova offerta dai Granata di Marinelli. Il gioco c'è e sono arrivate le prime due reti stagionali. Restano dubbi su errori difensivi assolutamente grossolani. Almeno un paio di reti assolutamente regalate. In particolare la quarta realizzata da Pera. Mentre i Granata stavano spingendo il piede sull'acceleratore alla ricerca del pareggio. Un gol subito per mancanza di cattiveria e superficialità che non si possono avere in un campionato così equilibrato. Detto questo, qualche segnale di risveglio c'è stato e per la prossima gara contro il San Marino al Civitelle. Le sensazioni sono in crescita. Questa volta non si può fare le per centrare la prima vittoria stagionale. Notizie dal girone. Affirmato ieri pomeriggio per la vastese il genio di San Martino in Pensilis vittorio esposito. Un colpo da 90 per la squadra adriatica. Un punto in campionato per gli abruzzesi. Frutto del pari interno contro il Chieti. Mentre domenica scorsa è arrivata la sconfitta. Giulianova per 2-1. Ora è il colpo esposito che porta qualità e brio all'attacco che può contare già sulla prestazione della riete Dos Santos, autore di due reti. Proprio la vastese sarà il prossimo avversario del Campobasso a Selvapiana. Ottimo approccio di stagione per la matricola Vasto Girardi. Antonio Crudella, direttore sportivo del Vasto Girardi. Conoscendoti non avrai dormito tutta questa settimana per quest'altro appuntamento con la storia ormai che si ripete da molti anni. Debutto storico in casa qui al Civitelle di Agnone. Era meglio una vittoria, però si può essere soddisfatti anche di questo pareggio? Sì, siamo soddisfatti a metà, a parte che ho dormito benissimo questa settimana, tranquillamente. A parte gli scherzi, c'è un po' di rammarico per come è andata la gara. Siamo stati sfortunati, qualche episodio da rivedere. Però, come abbiamo sempre fatto, accettiamo il risultato e voltiamo pagina già da adesso. Pensiamo già alla prossima trasferta di Avezzano. Con queste due partite molti addetti ai lavori vi hanno definito duri a morire. fu questo frutto di una signora preparazione, perché a Notaresco abbiamo tutti visto cosa siete stati capaci di fare. Ora avete ripreso questa partita. Testimonia che comunque ci siete sempre nei 90 minuti. Sì, le partite finiscono al 94-95, quindi bisogna essere concentrati e essere sul pezzo, come si dice, fino alla fine. Siamo stati bravi a recuperare la partita. Come ti dicevo, c'è un pizzico di rammarico per quello che si è visto, però andiamo avanti, non facciamo drammi. Come dicevo prima, pensiamo già a Domenico. Domenico è un'altra trasferta insidiosa, non perché le altre non lo siano. Cioè, l'Avezzano è un girone un po' particolare, dove sembra non ci sia un'ammazza campionato, dove possono stare tutti lì. Sì, sappiamo che ogni partita ha una storia a sé, ogni partita è difficile, abbiamo il massimo rispetto verso tutti, quindi domenica andremo lì come al nostro solito, con tanto rispetto, però con la voglia di far bene e con la consapevolezza che se facciamo quello che proviamo in settimana, quello che prova il mister, se la squadra segue il mister, insomma, possiamo giocarcela contro chiunque. Atletica verrà presentata oggi pomeriggio, verrà presentata oggi pomeriggio la nona edizione della Marcia dei Misteri. Alle 17 la Polisportiva Molise svelerà i dettagli del nuovo circuito con partenza alle 10 da Corso Vittorio Emanuele. Appuntamento oggi nella sala civica del comune di Campobasso, mentre la gara è in programma domenica. Calcio d'eccellenza in Rocca Sicura, deputato tra le muramiche con una prestazione convincente contro le Acli, Campo di Pietra. E siamo con il vicepresidente del Rocca Sicura, con chi se la batterà il Rocca Sicura quest'anno per la vittoria del campionato? Domanda a Tranello, rimaniamo umili, sicuramente il parco delle pretendenti è molto ampio, se vuole qualche nome, Vairano, Venafro, la Capriatese, la rinnovata Isernia, ma possiamo dire con questa prestazione che ci siamo, con umiltà, con dedizione, ma ci siamo. Mancano ancora tante partite, siamo all'inizio, l'esordio non poteva essere dei migliori. Sì, la partita è praticamente finita per noi il primo tempo, poi c'è stato un giusto e corretto giropalla, quindi siamo soddisfattissimi del primo tempo, la nostra squadra quando sblocca sicuramente è in grado di mettere al sicuro il risultato, bene così, complimenti allo staff tecnico, al mister Bonomi, per l'ottima preparazione e la giusta interpretazione tecnico-tattica. Fiducioso per il proseguito di questo campionato, ovviamente? Sì, la strada è molto molto lunga, arriveranno campi insidiosi, situazioni ambientali sicuramente differenti, però con il lavoro quotidiano e, ripeto, la giusta amalgama che ancora va ulteriormente migliorata, ma con la freschezza dei nostri giocatori, ricordo che noi siamo una squadra molto giovane, sicuramente alla lunga diremo la nostra. Calcio a 5 di Serie A2, due gli appuntamenti per il Cus Molise, giovedì alle 10 presso la Biblioteca dell'Ateneo, conferenza stampa di presentazione del quadrangolare in programma il prossimo fine settimana, mentre oggi pomeriggio i ragazzi di Mister Sanginario saranno impegnati ad Ortona per la prima amichevole la Tombesi, formazione che alla pari dei molisani disputerà la Serie A2. Palla canestro femminile di Serie A2, questa sera la molisana basket Campobasso presso il Blu Note presenterà ufficialmente la squadra, ma anche la terza edizione del quadrangolare Campobasso per lo sport, in programma il prossimo fine settimana. Calcio di promozione, il Termoli 2016 ha aperto la sua stagione al Cannarza con un successo. Emanuele Di Biasi, neopresidente del Termoli 2016, arriva a questo pareggio, vi va un po' stretto per il risultato che è arrivato sul campo, anche perché le occasioni le avete create? Un pochettino sì, perché abbiamo sbagliato un rigore al primo tempo, abbiamo avuto un'altra grossa occasione al primo tempo e abbiamo sbagliato, una a una un po' stretto, anche perché 5 minuti alla fine c'era anche un calcio di rigore non visto all'arbitro, cose che succedono. Per ora è la prima partita e alla fine siamo contenti così, non abbiamo giocato male, a me non è dispiaciuta la squadra. Un netto miglioramento rispetto all'esibizione di Coppa Italia? Sì, in effetti si sta migliorando e deve ancora migliorare, ci sono grossi margini di miglioramento sicuramente. Anche quest'anno avete puntato sul filone principale, che sono due filoni, ragazzi del posto e soprattutto valorizzare i giovani. Esattamente, esattamente. Ragazzi locali ed intorni e la valorizzazione dei giovani, giovani, una squadra molto giovane la nostra, sono la più giovane di tutte. Senti, avete avuto di fronte il Trivento che è una signora squadra. La signora squadra, esattamente, una squadra che poi ha una storia, il Trivento non ha una grossa storia. Sì, bravi giocatori, un po' più anziani dei nostri, però bravini, bravi, veramente. Quindi, tutto sommato, va bene. Questa settimana potrebbe portare il regalo più importante, l'arrivo di un attaccante, che dovrebbe essere, lo possiamo anticipare, Giuseppe Mucci. Sì, dovrebbe essere Giuseppe Mucci, sì. Anche per il Ripalimosani, buona la prima. Il tecnico Bentivoglio nella post-gara contro la Calena. Antonio Bentivoglio, allenatore del Ripalimosani. Prima partita, prima vittoria, miglior inizio non poteva esserci. Forse solo qualche sofferenza nella ripresa, ma per tre quarti di partita si sono viste buone cose. Il Ripa ha tenuto bene il campo, si sono viste buone trame, anche se a questo punto della stagione ancora non si può essere proprio brillantissimi. Sì, noi siamo ancora in piena preparazione per ancora un'altra settimana, perché abbiamo iniziato tardissimo, abbiamo iniziato il 19, a nove, quindi finiremo la nostra preparazione la settimana, venerdì prossimo. I ragazzi oggi naturalmente hanno sofferto un po' questo, hanno sofferto un po' il caldo, ma l'importante era vincere e l'abbiamo fatto. Naturalmente ho visto degli errori evitabilissimi, forse dovuti alla poca lucidità. Nel giro palla non eravamo molto svelti, eravamo un po' lenti. Poi alla fine abbiamo sofferto un po' troppo anche sulle palle inattive e questo non ce lo possiamo permettere. Loro ci hanno creduto fino alla fine, quindi faccio i complimenti al Calena. Ma, come ripeto, oggi era importante fare tre punti per partire bene e questa è l'unica cosa che conta. Un ripari Mosani che davanti quest'anno ha degli attaccanti davvero di esperienza e che la buttano dentro come, ad esempio, Cirenei e lo stesso Zullo. Quindi il problema dello scorso anno dovrebbe essere superato, ma adesso con l'andare delle giornate si vedrà finalmente il vero gioco di questa squadra. Sì, noi proviamo, cerchiamo di fare un calcio propositivo, fatto di possesso, palla a terra. Abbiamo anche la soluzione Michele, quest'anno, che spalla la porta, penso che è ancora uno dei migliori attaccanti, nonostante l'età. Oggi ha fatto una partita mostruosa, secondo me. Penso sia stato il nostro migliore in campo. Anzi, tra tutte e due le squadre penso che sia stato il migliore in campo. Michele, alla sua età, avere ancora quella passione, quella voglia e metterci ancora tanta qualità e tanta roba, faccio i complimenti a lui. Eddie oggi mancava perché aveva un matrimonio. Eddie per noi è un giocatore fondamentale perché è l'unico vero attaccante che abbiamo, capace di girarsi, calciare in porta, farsi trovare dentro l'area. Le palle sporche sono tutte sue. È diverso da Michele, Michele fa giocare meglio la squadra, mentre Eddie è più un finalizzatore. Con loro due credo che abbiamo fatto due grandi acquisti, ma non solo a livello tecnico, ma anche a livello umano. Sono due ragazzi fantastici. Che camminato si aspetta, visto quello brillante disputato lo scorso anno, considerando le caratteristiche di cui abbiamo appena parlato, quindi una squadra che sarà più cattiva sotto porta? Me lo auguro, me lo auguro. Anche se oggi, come l'anno scorso, siamo ripartiti con il gol dei nostri due difensori. Però credo che quest'anno abbiamo messo qualcosa in più lì davanti. C'è qualche soluzione in più. Abbiamo la possibilità anche di andare sul fondo, mentre l'anno scorso dovevamo giocare sempre palla. Nelle partite sporche abbiamo l'opportunità di mettere palla morbida su Michele o su Eddie, perché sanno tenere palla l'anno scorso un attaccante con quelle caratteristiche e non l'avevamo in rosa. Ripeto, fare un campionato come lo scorso anno sarà difficilissimo, perché veramente abbiamo fatto un campionato mostruoso, credo, in base alla rosa, in base al campionato stesso che era quello di promozione dello scorso anno, che aveva due squadre d'eccellenza, secondo me, come Capriatese e Varanese. Quest'anno credo che sia un campionato più livellato, ma verso l'alto, quindi si può vincere e perdere contro chiunque. Non so se ci sarà un ammazza campionato, ma non credo, noi più che aggiungere abbiamo sostituito, solo davanti abbiamo messo qualcosa in più, negli altri reparti abbiamo piuttosto sostituito. Quindi credo che altre squadre hanno fatto un mercato più ampio del nostro, un mercato più da play-off o da primato. Noi invece lavoriamo per battere queste squadre qua. Lo Spinete ha bloccato sul pari il Biccari, il commento affidato al tecnico dei Matesini. Giovanni Calabresi, allenatore dello Spinete. Lo Spinete comincia oggi con la sua prima giornata di campionato contro il Biccari, una partita sulla quale c'è da pensare, tante e tantissime occasioni perdute, forse una scarsa concentrazione? No, solamente la prima partita di campionato, dopo una partenza in Coppa Italia non brillantissima e anche una carenza di uomini ancora siamo in pochi, poca possibilità di fare cambi. La preparazione è ancora in fase di ultimazione e quindi siamo un po' imballati. Però la partita l'abbiamo giocata come volevamo, di fronte avevamo una squadra che palleggiava bene, quindi io sono soddisfatto del punto conquistato. Nessun cambio infatti, mister Calabrese. Calabrese forse si è temuto quando invece il Biccari ha cambiato tutti gli uomini davanti, insomma, in attacco. L'unico cambio che abbiamo fatto negli ultimi minuti, perché avevamo Di Orio, Nicola, che era proprio stremato, un ragazzino 2002, ha la prima esperienza in questa categoria, quindi ovviamente paga un po' lo scotto dell'esordio. e abbiamo cambiato l'unico uomo che avevamo a disposizione. C'erano altri due ragazzi in banchina, ma era praticamente la prima volta che venivano e di conseguenza non ho potuto fare altri campi. Mister, prossima partita sarete fuori casa contro chi dovete giocare e quale sarà lo spirito? La prossima partita, francamente, io sono subentrato da un paio di giorni. Non ricordo nemmeno con chi dobbiamo giocare. Abbiamo qui il calendario, però ancora non ho fatto mente locale. Ma la nostra partita non cambia rispetto agli avversari, anche perché in queste categorie non è che noi conosciamo gli avversari, gli uomini, le tattiche. Noi giochiamo la nostra partita con le caratteristiche che abbiamo. In casa, ovviamente, abbiamo il favore del pubblico. Fuori casa dobbiamo fare di necessità virtù. Quindi, con chi sarà la prossima partita, per noi non cambia assolutamente nulla. Al Fiorilli, buona prestazione, subito tre punti per l'Ururi. In casa Ururi, il direttore sportivo dell'Ururi, bella affermazione importante per chi era la prima, contro un avversario che di tutto rispetto, il Torre Maggiore e il Torre Vecchio, una squadra che punterà la zona alta della classifica. Su questo non ci sono dubbi, è stata una bella squadra, ma i nostri ragazzi si sono comportati alla grande seguendo tutte le direttive che gli ha dato il mister. È stata una partita compattuta e ce ne saranno qui fino al proseguo del campionato. Noi siamo una squadra giovane, come avete visto, la maggior parte sono ragazzi del luogo e ragazzi delle zone dei nostri paesi vicini. Puntiamo a fare un campionato di media classifica e toglierci delle soddisfazioni con le grandi squadre che chi verrà a Ururi sa che non è facile vincere qua. Senti, siete stati bravi perché dopo aver subito gol qualsiasi squadra si sarebbe un po' demoralizzata, invece era tu a testa alta, attaccata, trovato 1-1 e poi addirittura il gol del sorpasso. Sì, sì, dopo aver preso il gol che noi stavamo giocando bene su una punizione calciata magistralmente dal ragazzo del Torre Vecchia, però poi i ragazzi si sono riconcentrati, hanno dimostrato che possono fare questo campionato e lo hanno dimostrato alla lunga sulla partita e abbiamo vinto meritatamente senza rubare niente a nessuno. Senti, c'è grosso entusiasmo in questa cittadina, credo che l'avvento del nuovo allenatore, lo staff tecnico, l'arrivo anche di Di Rosa, come preparatore atletico, credo che abbia fatto alzare un po' l'asticella, soprattutto a livello di entusiasmo. Sì, il mister Rocco Melchiorre dà una garanzia sia a noi che ai ragazzi. Abbiamo avuto la collaborazione di un nostro ragazzo, il signor De Rosa Massimo, che è un ottimo preparatore e si sono visti i risultati oggi. I ragazzi hanno corso e hanno risposto bene a tutte le direttive, come dicevo. Voi sapete che l'Ururi fa calcio dal 1924, non lo scopro né io, si sa, ci teniamo a fare bene. Muntan Bike domenica, la Molise Tour Bike è stata impegnata nella Marathon dei Colli Albani. 15 gli atleti del sodalizio molisano al Via, numero che ha consentito alla società del Presidente Gennarelli di portare a casa il premio come seconda società più numerosa al Via della Corsa. Nel percorso Marathon, quello dei 71 chilometri, con 2.100 metri di dislivello, Andrea Cardillo ha conquistato la 41esima posizione assoluta e la sesta tra gli M2. Paolo Bettini, Emilio Bontempo e Giuseppe Gennarelli hanno chiuso nei primi 100 assoluti su oltre 600 partenti. Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.